Sistemi di sospensione integrati Old Man IMU Trovare la giusta soluzione per installare un sistema di sospensione completo ed affidabile richiede molta attenzione e preparazione tecnica. Old Man IMU con i suoi sistemi integrati è l'unica azienda al mondo in grado di fornirti il giusto kit completo di sospensione assecondando le specifiche necessità del pilota e del veicolo. Che sia offroad estremo, viaggi ride, trial o semplice all around, Old Man IMU è al tuo fianco.